Qual è la più affascinante? Qual è quello un pochino insipidino, come si dice? La pagina, non vogliate averla pagata perché questo lo faccio a me conto. Allora, Giorgia Lupano ci farà ascoltare la relazione di Alice Baroni, una roba un po' conoscivissima, però alcuni la ricorderanno. Binalio, Giorgia Lupano. Binalio, Giorgia Lupano. Binalio, Giorgia Lupano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.